Musica Ma che c'è? C'è che qui ci sono le foto del meno tu e 10 ex Storie antiche? Ultimi ricordi di un passato glorioso? Domani le stacco Mi avevi promesso di saresti fatto il test? E lo so Allora? Allora l'idea mi mette un po' d'ansia L'ho fatto anche io Ah si? Si, un po' di tempo fa E come mai? Beh, altra storia antica, evidentemente non troppo sicura Emanuele? Si? No scusate Io sono da comprare da mangiare, c'è qualcosa in particolare che vi piace? Fateci accompagnare da Andrea Ma dove? A farci il test l'HIV, ti va accompagnarcelo te? Ragazzi se non andate con nessuna categoria a rischio, non correte nessun rischio? Non esistono più da un pezzo le categorie a rischio Se c'è una categoria che oggi è più a rischio è proprio quella degli eterosessuali No, la storia del categoria a rischio è sempre stato un grosso alibi Simone non si può certo di fosse una categoria a rischio La unica categoria a rischio è quella di chi non usa la testa Beh a tutti noi è capitato almeno una volta di non usarla, no? A me non più Si, ci sono anche delle circostanze in cui è veramente difficile mantenere il controllo fino alla fine La prossima volta pensa un solo momento a quello che è successo a Simone Vedrai che il controllo non lo perdi più La prossima volta non ci sarà perché adesso lui sta con me Appunto L'unica arma contro l'intera faccenda è la fedeltà Se sei fedele ti dimentichi completamente del problema Ma se lui ti tradisce e sei solo tu ad esseri fedele il problema non cambia Anche questo è vero E' mai tradita? Decine di volte Che stronzo O io domani vado a farmi il test Davvero? Fai bene Anch'io me lo voglio fare Vieni con noi Ma Francesca le tue storie a rischio e praticamente non esistono Oh neanche le mie Su queste è meglio sorvolare Appunto Oh non mi va di farmelo Cioè sto benissimo Si stai benissimo e gli ho promesso che te lo facevi il test E mi è tornata l'ansia Dai andiamocene Ma dove vai? Oh non ti riconosco più stai scappando davanti un'analisi del sangue Oh visto che sono un'analisi del sangue perché non te la fai pure te? Eh perché non me la faccio pure io? Eh perché? Me la faccio pure io? Guarda che qualche disco le hai corso pure te eh O ce l'hai sti Francesca? Marco E' là Come state? Bene Siamo venuti a trovare una nostra amica qui Te come stai? Bostanza bene Ho appena fatto il test dell'HIV Ah si? Si Il mio fratello l'ha fatto la settimana scorsa E mi ha convinto pure a me Effettivamente tocca Beh quando lui ha ritirato l'analisi Si è tolto un peso pazzesco dallo stomaco Per due giorni è andato in giro dicendo a chiunque che era negativo Un vero esaltato Francesca come stai? Pare che io non la vedo No no bene sta bene Allora salutate? Come no scherzo? Si è messa con qualcun altro? No non credo No Ok state bene Anche tu eh Ciao 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 A che pensi? A te? Ci togliamo sto peso dallo stomaco? Togliamocelo 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 I broke up promise Coz of you Thank you похож Try Grazie a tutti.